Partito il conto alla rovescia per l'evento che si temeva fosse spacciato e non si potesse più svolgere a Chioggia. In barba le previsioni più nefaste, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre torna dopo un pit stop più lungo del previsto il King of Chosa, l'evento di drifting in grado di attirare partecipanti, pubblico e attenzione da parte dei media. Lo stesso sindaco Armelao poco più di un mese fa dichiarava davanti alle telecamere di Chioggia Azzurra che la stessa Chioggia non si poteva permettere di perdere un evento simile. Si è messa in pista una sinergia tra la SMA, l'ASD, team organizzatore, il comune di Chioggia, l'autorità di sistema portuale del mar adriatico settentrionale, il sindacato di polizia di stato FSP di Venezia, la capitaneria di Porto e Libertas, settore automobilistico. Quindi risolto tutto, si parte. Sabato 30 la bandierina segnerà il via della nona edizione del King of Chosa, palco drift d'Italia. Sarà l'edizione dei record, un record di iscrizioni con piloti provenienti da tutta Italia, tempi e record per l'organizzazione dell'evento. In meno di un mese si è organizzata con tutti i crismi una manifestazione che si pensava fosse spacciata. Un record di presenza negli alberghi grazie ai team che arriveranno accompagnati anche delle famiglie che godranno della nostra città. Val Dario rappresenta per l'organizzazione del drift un sito perfetto. Spazio per l'esibizione, spazi per i team che dovranno effettuare i cambi gomme e mettere a punto i motori. Spazio per il pubblico che gratuitamente può vedere in tutta sicurezza lo svolgersi delle corse. Spazio per i ristori e per il parcheggio dei visitatori. Ma dove lo trovano un altro posto come Val Dario per dare vita a questa fantastica Kermess? Anche in questa occasione ci sarà il servizio del taxi drift. Potrete salire a bordo con un pilota professionista che vi farà provare l'entusiasmante corsa proprio in prima fila seduto a bordo. L'entusiasmo è tanto anche in vista del 2024 che vedrà svolgersi più eventi e forse corsi di guida sicura in collaborazione con FSP Polizia di Stato. Ma per il momento restiamo con le ruote ben aderenti all'asfalto. Sabato 30 settembre, domenica 1 ottobre, il drift del King of Chosa ti aspetta. L'agenzia Venice Water Link in collaborazione con la Raffaello Navigazione in aprile e maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 0418626373 per prenotazioni online sul sito www.veniswaterlink.com